gentili telespettatori buona giornata all'aria che tira invitano francesca donato che commenta il caso del quello quel dossier sulla russia che arriva dagli stati uniti che sul quale io credo molto poco nel senso che può essere anche vero quello che dice che dicono gli stati uniti perché i soldi girano il mondo soprattutto vanno da stati a partiti amici in altri paesi anche in italia abbiamo ricevuto la dc ha ricevuto milioni e milioni di dollari dagli stati uniti il partito comunista ha ricevuto milioni e milioni di dollari dal dall'unione sovietica se oggi arrivassero soldi dalla russia non c'è assolutamente da stupirsi solo che è illegale in italia è illegale ricevere questi finanziamenti però finanziamenti arrivati a 10 giorni c'è finanziamenti notizia uscita notizia notizia uscita a 10 giorni dalle elezioni in italia mi sembra proprio che serva per tentare di fermare un governo di centrodestra una sorta di avvertimento ecco su questo ne sono assolutamente convinto sembrerebbe che anche francesca donato sia sulla stessa linea lei è deputata del parlamento europeo ed è ospite nel programma l'aria che tira sulla 7 della merlino proprio ieri donato viene interrogata a proposito del report dell'intelligence degli stati uniti sui finanziamenti della russia ai politici di 24 paesi lei risponde mi sembra che questa notizia a 10 giorni dalle elezioni sia la classica a orologeria se ci fosse un fondamento a queste accuse c'erano anni di tempo per fare commissioni d'inchiesta certamente non è la prima volta che sentiamo parlare di finanziamenti russi a partiti come la lega se ci fosse un fondamento a quest'ora sarebbero venute fuori le prove di queste cose io personalmente non so che cosa ci sia di vero credo che il presidente del copa sir abbia correttamente detto che la prima cosa da fare chiedere agli stessi stati uniti se questo tema riguarda l'italia o meno non credo dice la donato che questa notizia influirà così tanto sulle dinamiche elettorali i cittadini italiani non sono interessati a chi ha finanziato chi ma sono interessati a cosa si intende fare per salvare la nostra economia le nostre imprese le nostre famiglie dalla crisi su questo ci si dovrebbe concentrare il discorso di oggi di ursula è stato pieno di roboanti proclami ma assolutamente vuoto di concrete misure il tetto al prezzo del gas non si può fare perché non c'è l'accordo ci sono paesi che continuano a volersi mangiare con la speculazione i soldi di altri paesi dei cittadini europei beh lei dice che una notizia di questo tipo non non influirà così tanto sulle dinamiche elettorali se però questa notizia così com'è non influisce per niente dire la russia ha pagato 300 milioni di dollari negli ultimi dieci anni otto anni verso 24 paesi a partiti partiti capi politici detta così non cambia di una virgola la posizione elettorale in italia ma se gli stati uniti tra qualche giorno a ridosso del voto subito dopo il voto volessero tirar fuori dei nomi volessero tirar fuori dei nomi italiani di partiti e capi politici che si sono intascati milioni che magari hanno in qualche valigetta a casa perché ovviamente non li puoi questi soldi di solito vengono dati con delle valigette diplomatiche soldi non tracciabili dati a te in mano da un agente dei servizi segreti stranieri che sa come non farsi beccare ti dà dei soldi in mano ovviamente da lì in poi le prove non ci sono non esistono prove e non ci saranno mai come abbiamo parlato in passato di altri soldi non ci sono prove del passaggio di denaro questi soldi non essendo non tracciati sono soldi incontanti dati in mano a qualcuno e è finito lì non ci sono poi spariscono questi soldi il politico che ce li ha in casa li prende un po' ogni giorno e li utilizza senza utilizzare quelli del suo stipendio che rimane intatto ma vive prendendo i soldi da quella valigetta vive per anni con quei soldi lì ecco pertanto la tracciabilità di questi soldi è impossibile cioè anche se gli stati uniti dicessero quel politico ha preso un milione in mezzo se l'è intascato non ci sarebbe nessuna prova dice a noi ve lo diciamo ne siamo sicuri la prova la prova non c'è o la prova non può essere esibita magari un video magari non c'è la prova pertanto gli stati uniti con questo sembrano come avvertire attenzione qualunque governo vada su comportatevi bene con la russia non mi diventate filo russi perché poi saltano fuori i nomi e saltano fuori i vostri nomi questo è un avvertimento non diventate filo russi se no poi saltano fuori i vostri nomi questo è l'andazzo è proprio questo qua pertanto quello che vede la donato lo vedono tutti sia destra che sinistra hanno capito perfettamente che questo dossier è un avvertimento a chiunque governerà l'italia attenzione a quello che fate se no facciamo saltare fuori i nomi avete capito no basta dichiarazioni filo putin togliamo le sanzioni perché se no saltano fuori i nomi poi quel saltare fuori i nomi potrebbero essere dei nomi veri o falsi nel senso che potrebbe essere tutto vero tutto falso non lo sappiamo se gli stati uniti dovessero dire quel partito e quel politico hanno preso dei soldi il partito e anche personalmente prove ve lo diciamo noi che siamo i servizi degli stati uniti verrebbe fuori un casino verrebbe fuori un casino perché sarebbe qualcosa che non sarebbe mai provato ma sarebbe detto dagli stati uniti dicendo noi stiamo dicendo una cosa vera poi voi se volete crederci o no ma noi vi diciamo quello che abbiamo visto quindi verrebbe fuori un casino un veramente un vero putiferio in italia ed è per questo che gli stati uniti stanno facendo capire noi potremmo intervenire nella campagna elettorale magari non interveniamo stiamo aspettando le elezioni stiamo vedendo stiamo e vogliamo vedere come si posizionerà il governo meloni se per caso dovesse posizionarsi dall'altra parte allora saltano fuori i nomi veri o falsi che siano salteranno fuori dei nomi per fermare il governo italiano arrivederci a tutti e grazie 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 grazie